Cambiamenti in vista in Viale Adriatico a Sassonia di Fano. Dopo i lavori di asfaltatura, gli operai stanno tracciando la segnaletica orizzontale ma con diverse modifiche. Alcuni parcheggi per le auto sono stati sostituiti con quelli per la sosta di moto e scooter. La decisione è stata presa dall'amministrazione comunale in vista della nuova pista ciclabile che verrà realizzata dopo Ferragosto. Infatti, fra gli obiettivi della giunta fanese, rientra quello di riqualificare i percorsi ciclabili della città e promuovere la mobilità sostenibile realizzandone altre, come quella che andrà a collegare Fano a Senigallia o quella nel quartiere di Bellocchi. Qui, insieme a Rosciano e Gimarra, inizieranno anche i lavori di asfaltatura e poi il rifacimento della segnaletica non appena termineranno quelli programmate nell'interquartieri che prenderanno il via la prossima settimana. Quindi anche questa è un'altra risposta positiva che dimostra l'attenzione e la sensibilità di questa amministrazione a tutto quello che è il tema della mobilità sostenibile e il tema delle piste ciclabili. A breve porteremo anche il nuovo piano delle piste ciclabili della città. La pista ciclabile nel lungomare di Sassoni andrà a collegare Viale Ruggere al porto di Fano, sarà larga due metri, comprese le strisce di delimitazione e verrà verniciata di colore rosso per renderla più visibile. Per ora rimarrà senso unico di marcia ma in futuro non si esclude che possa diventare a doppio senso eliminando ulteriori posteggi. Questo intervento secondo me è abbastanza importante perché dovrebbe portare i ciclisti che attualmente percorrono la passeggiata lungo la spiaggia a percorre invece proprio il percorso ciclabile e quindi a garantire di più la sicurezza della passeggiata mare in sostanza. Una precisazione, anche perché verso la passeggiata a lato mare c'è un divieto? Sì, c'è un'ordinanza e è vigente già da tempo che appunto vieta a qualsiasi veicolo di percorrere quella passeggiata e siccome la bicicletta è un veicolo questo è sottinteso. Ovviamente questo percorso ha comportato una diminuzione dei posti auto. Non sono tantissimi, sono soltanto quelli che erano presenti in corrispondenza degli allargamenti del marciapiede sul lato opposto mentre tutti gli altri stalli di sosta vengono mantenuti, vengono mantenuti sia gli stalli per il carico e scarico delle merci che quelli per i disabili e sono stati anche inseriti gli stalli per le moto, per i motocicli in linea, cioè in parallelo alla strada, alla carreggiata, cercando di mantenere appunto la situazione esistente il più possibile.